Vogliono un Presidente del Consiglio più condiviso possibile, questa è la ragione del rinvio dell'elezione. La minoranza in realtà, dove ha richiesto la Presidenza per sé esercizio di stile politico e basta, vuole dialogare con la maggioranza, dopo l'apertura del Sindaco Roberto Gambino. Il Presidente sarà di maggioranza, a 15 voti dei grillini e sarà eletto a mani basse, ma la proposta è quella che venga eletto all'unanimità, anche se già c'è qualche voce dissonante in una minoranza che appare compatta. Oscar Aiello ha dichiarato che in qualsiasi caso non lo voterà, anche se ha aggiunto pensa che Giovanni Magri possa essere l'unica soluzione possibile. Aiello non ha ingoiato la spaccatura elettorale all'interno del centro-destra e adesso l'irriconoscenza, come la definisce lui, del Movimento 5 Stelle, rispetto alle dichiarazioni di sostegno a secondo turno da parte della Lega e dunque il mancato coinvolgimento nella scelta del Presidente. In realtà Oscar Aiello era tra i papabili alla Presidenza, proprio in forza dell'aiuto a secondo turno che la Lega ha dato al Movimento 5 Stelle, aiuto che da molti è stato considerato anche decisivo. Ma Giancarlo Cancelleri a suo tempo stoppò le voci dicendo che chi vince prende tutto e si assume la responsabilità di governare. Nei prossimi giorni comunque ci sarà una riunione di minoranza alla quale tutti parteciperanno e poi l'incontro con il Movimento 5 Stelle.